In occasione del 22 marzo giornata mondiale dell'acqua, Marche Multiservizi che gestisce il fabbisogno idrico sul territorio inaugura l'ennesima casetta dell'acqua. Collocata in via Bologna si tratta della seconda casetta installata nel comune di Gradara. Un taglio del nastro del dispositivo realizzato da Adriateca Acque con il contributo di Ato 1 Marche Nord accompagnato nell'occasione dalla presenza degli alunni della scuola primaria Gino Strada di Gradara ai quali è stato rivolto il messaggio di sensibilizzazione verso un bene vitale tanto prezioso quanto non scontato. Gradara è da sempre attenta alle tematiche ambientali, alla tutela dell'ambiente, alla sostenibilità. Facciamo tanti lavori soprattutto insieme ai bambini ed è per questo che oggi sono qua con noi. Inauguriamo questa seconda casetta dell'acqua, sì, diamo importanza a quello che è il bene più primario per noi ma vogliamo anche farlo proprio per incentivare non più l'utilizzo di plastica e di bottiglie ma per poter utilizzare così sempre di più il vetro o le borracce di cui ogni bambino ormai è dotato. Questa continua l'opera di sensibilizzazione dell'azienda sull'utilizzo dell'acqua corrente e di conseguenza l'acqua dell'acquedotto insomma perché è un'acqua di alta qualità che viene controllata periodicamente dai laboratori di analisi dell'azienda con oltre 160 analisi al giorno e quindi noi siamo contenti, ringraziamo l'amministrazione comunale Adriatica Acqua che è il nostro partner per la realizzazione di queste casette dell'acqua perché ci consentono di fare questa opera di sensibilizzazione credo importante perché l'utilizzo dell'acqua del rubinetto, delle casette dell'acqua consente ovviamente anche di risparmiare ma soprattutto di ridurre quello che è l'utilizzo dell'acqua in plastica quindi l'utilizzo della PET e la produzione di plastica e il trasporto della stessa con ovvie benefici per l'ambiente. L'erogazione è possibile attivarla sia con moneta, i tagli accettati sono dai 500 ai 2 euro e non da resto. Per non avere sempre la moneta contata con sé che non è sempre facile è possibile acquistare la tessera alla cartolibreria Fantasy qui di fianco, il funzionamento è molto semplice, questa è la tesserina, si inserisce nell'apposito lettore, nel display viene indicato il credito residuo della tessera e praticamente si seleziona la tipologia di acqua che si desidera e la taratura a litro quindi basta premere una sola volta il pulsante e l'erogazione si interrompe da solo a litro. Se si ha un contenitore diverso come una borraccia in questo caso da mezzo litro è sufficiente premere una seconda volta l'erogazione per interromperla e comunque l'erogazione viene comunque memorizzata finché non viene erogato il litro. La ricarica delle tessere anche qui è molto semplice perché una volta inserita la tessera è sufficiente inserire le monetine e sul display viene indicato la carica residua della tessera. Marche Multiservizi nel quinquennio 2022-2026 ha destinato 43 milioni di euro di investimenti al ciclo idrico integrato, un bene fondamentale messo in pericolo dalle sempre più frequenti siccità e annesse crisi d'approvvigionamento. C'è un detto che dice non conosciamo mai il valore dell'acqua finché il pozzo non si prosciuga, speriamo di non dover arrivare a questo punto per apprezzare l'importanza di questa risorsa del nostro territorio.